Noi siamo abituati a pensare all'anziano in termini di quali problemi ha e come possiamo aiutarlo. In realtà l'anziano può essere anche una grossa risorsa per la comunità. L'anziano attivo è un patrimonio prezioso. Certo, soprattutto oggi che abbiamo una lunga durata di vita, siamo molto orgogliosi perché la popolazione italiana ha un'attesa di vita alla nascita che è una delle maggiori del mondo. 81 anni per il maschio e 85 anni per la femmina. Però se guardiamo quello che ci interessa, quello per cui un anziano poi può essere utile alla società, dipende dalla durata di vita sana. E qui purtroppo precipitiamo nella classificazione perché abbiamo sei anni per il maschio e otto anni per la femmina di cattiva qualità di vita dovuta alle malattie. Una malattia, ma molto spesso più malattie magari contemporaneamente. E questo fa sì che la durata di vita sana diventa 75 anni per il maschio e 77 per le femmine. Ecco, se noi potessimo avere una situazione per cui la durata di vita sana è importante per tutti, avremmo più possibilità di utilizzare gli anziani. E gli anziani hanno la loro importanza, prima di tutto perché rappresentano una memoria storica. Si parla molto anche in questo periodo di fascismo, però la maggior parte della gente non sa di che cosa si tratti e non ha visto io, dato il lungo chilometraggio, ho vissuto un periodo del fascismo per ben dieci anni, dai 6 ai 16 anni. Quindi alla scuola ho capito che cosa voleva dire il fascismo. Un altro esempio potrebbe essere quello che soltanto le persone anziane hanno vissuto il periodo in cui non c'era un servizio sanitario nazionale. Allora non c'era. I giovani oggi giustamente si lamentano delle cose che non vanno bene per il servizio sanitario nazionale, ma non hanno un'idea del bene straordinario che rappresenta il servizio sanitario nazionale. Gli anziani hanno vissuto il periodo in cui c'erano i manicomi. Adesso nessuno sa come fossero quelle situazioni e nessuno è contento per l'idea che non ci siano più. Quale può essere il contributo dell'anziano attivo alla società e alla comunità? Beh, oltre al problema della memoria storica, l'anziano che sta bene ha ancora tante possibilità di contribuire, quindi può continuare in qualche modo a occuparsi dei problemi di cui si occupava prima, se ha entusiasmo, se ha voglia, se ha passione, ma soprattutto può essere molto sensibile ai problemi della società e quindi può partecipare con passione al volontariato di cui abbiamo tanto bisogno per coprire tanti dei problemi sociali che abbiamo. Quindi questo, diciamo, è molto importante che l'anziano continui ad essere attivo e non è soltanto un atto di beneficenza, è anche un atto di sano egoismo perché continuare a mantenersi attivi vuol dire anche contribuire alla propria salute. Perciò ritirarsi quando si è anziani, stare a casa o stare al bar certamente non contribuisce a migliorare la propria salute, anzi la peggiora. Come lei per esempio fa quando a 93 anni tutto il mattino viene ancora in ufficio, cioè lei non sta a casa. No, certamente perché sono interessato a quello che faccio, la ricerca è stato uno dei fini e anche delle attività della mia vita, quindi potendo continuare a farlo lo faccio con grande passione e con grande entusiasmo anche perché questo mi permette di parlare con i giovani, di aiutarli, di sensibilizzarli ai problemi e così via. Per vivere a lungo bisogna invecchiare. Certo. Ma l'importante è invecchiare bene, come ci ha detto lei prima. Per invecchiare bene credo che ci sia un tema di prevenzione. Certamente, lei nomina una parola che è poco popolare perché la prevenzione è di fatto pressoché ignorata da parte del Servizio Sanitario Nazionale perché con il tempo e anche con i grandi risultati che ha ottenuto la medicina si è focalizzata l'attenzione soprattutto sulla cura. La maggior parte della gente pensa se avrò delle malattie ci sono dei farmaci, ci sono dei trattamenti, ci sono degli interventi che mi aiuteranno. E quindi diciamo ci si è dimenticati che la maggior parte delle malattie è prevenibile, è evitabile. Non tutte le malattie piovono dal cielo ma siamo noi che ce le autoinfliggiamo e poi magari ci lamentiamo di averle. Per esempio, almeno il 50% delle malattie croniche è evitabile. Il diabete, l'insufficienza cardiaca, l'insufficienza renale, l'insufficienza polmonare, almeno il 50% si può evitare. Quindi si pensi a tutti i risparmi di anni di vita che si possono ottenere e anche alla diminuzione delle spese per il Servizio Sanitario Nazionale. Il 70% dei tumori è evitabile, eppure muoiono 186 mila persone all'anno per tumore. Quindi ne morirebbero soltanto 56 mila. Avremmo una situazione straordinaria. Dei 6,6 milioni che spendiamo ogni anno per comprare farmaci antitumorali, ne spenderemo molti di meno. E questi soldi potrebbero essere utilizzati molto meglio per coloro che hanno malattie che non sono evitabili. Quindi la prevenzione è qualcosa che dobbiamo in qualche modo promuovere. È una grande rivoluzione culturale che dobbiamo fare. Il 50% delle malattie sarebbero evitabili con una corretta prevenzione, addirittura il 70% dei tumori. Ma oltre che evitabili le malattie, migliorerebbe notizialmente la qualità di vita. Certamente, invece di avere i 6 e 8 anni di cui parlavamo prima, di coattiva qualità di vita perché abbiamo malattie, avremmo una situazione molto diversa. Ma per far questo occorrono delle iniziative. Cioè bisogna spingere i nostri decisori perché la scuola a tutti i livelli abbia delle lezioni, dei corsi sulla salute. Cioè dobbiamo fare in modo che gli studenti, i ragazzi, imparino fin da piccoli quali sono gli elementi della prevenzione. Non fumare, non bere alcol. Purtroppo ormai vediamo 12 anni e 13 anni che lo fanno regolarmente. Non prendere droghe, non giocare d'azzardo perché dà dipendenza. E poi l'esercizio fisico che è fondamentale, l'esercizio intellettuale, i problemi di peso, l'obesità è un fattore di rischio per molte malattie come il sovrappeso. E questo dipende dall'esercizio fisico e dipende anche dall'alimentazione. Abbiamo bisogno di un'alimentazione che sia moderata. I nostri vecchi dicevano che bisogna alzarsi da tavola con un po' di fame. Allora lo dicevano perché non c'era da mangiare o ce n'era poco. Adesso i frigoriferi sono pieni, quindi a maggior ragione dobbiamo stare attenti. Quindi varietà nel cibo, nella dieta, ma moderazione. E oggi la varietà è tanto più importante perché non ci assicura soltanto i macro e i micronutrienti di cui abbiamo bisogno, ma ci assicura di non accumulare lo stesso tipo di contaminante, visto che purtroppo i cibi hanno anche ancora oggi dei contaminanti. Ecco, c'è tutta una serie di cose che bisogna fare, come pure l'aderenza agli screening, per cercare di avere informazioni il più presto possibile sulla presenza di malattie o di tumori. Le vaccinazioni sono tutte delle attività che ci aiutano a migliorare la nostra qualità di vita. Professore, ma se ho capito correttamente, lei sta parlando della necessità di promuovere la cultura della salute addirittura già dall'età scolare? Certo, certo, fin dall'elementare. Fin dall'elementare è importante, per esempio, che i ragazzi imparino a mangiare vegetali, che oggi in linea generale tendono a rifiutare. Bisogna che i ragazzi, e soprattutto in questo caso le mamme, non pensino che avere dei figli bei grassi sia un bene. Cioè, devono sapere che è bene mantenere il peso ideale il più possibile, insomma. Cioè, c'è tutta una serie, bisogna che ci sia lo sport, bisogna che ci sia anche chi provvede poi a mettere a disposizione le piscine, i campi di gioco, le possibilità di camminare, perché sono tutte attività. Poi c'è il sonno, la importanza del sonno. Oggi si tende molto a trascurare questo, perché la gente, soprattutto nel weekend, tende a fare le ore piccole. Ecco, teniamo presente che il sonno non serve soltanto a riposare i propri muscoli. Ha una grande importanza per il cervello. Perché? Perché il cervello è l'organo che lavora di più. E lavorando di più, ha un metabolismo molto attivo e quindi ha molte scorie. Non riesce a smaltirle normalmente, ma durante il sonno raddoppia la capacità di smaltimento e quindi è un modo per tenere pulito il cervello e fare in modo che il cervello mantenga la sua funzione. L'anziano non è solo qualcuno che va curato, ma può rappresentare un'enorme risorsa per la società. D'altro canto, però, per arrivare ad essere anziani e risorsa è necessario prendersi cura già da prima e si apre tutto il tema della prevenzione. Insieme al tema della prevenzione si apre tutto il tema di quella che è la cultura della salute che va promossa. Ma mi pare di comprendere che a questo punto stiamo aprendo anche un tema sociale, perché lei diceva cultura della salute vuol dire anche movimento, vuol dire anche attività, questo vuol dire che io devo trovare sul territorio la possibilità di avere queste attività disponibili e via discorrendo. Sì, bisogna che ci sia questa partecipazione della società, perché non soltanto per l'esercizio fisico, ma prendiamo l'esempio di uno Stato che dal fumo incassa 13 miliardi all'anno di tasse. È chiaro che non sarà interessato a fare iniziative che diminuiscano il numero dei fumatori. E così, insomma, la pubblicità tende a farci avere dei bisogni inutili. Non so, spendiamo 3 miliardi e tanto per comprare integratori alimentari. Beh, però sappiamo che fanno bene a chi li vende, ma certamente non ci sono prove che siano utili a chi li acquista. Però c'è tutta una pubblicità che preme e che quindi alla fine ha ragione, perché se non riuscisse a persuadere non ci sarebbe la pubblicità. Lo stesso per quanto riguarda il cibo. C'è la tendenza a farci mangiare di più, a farci mangiare cose che sono magari troppo salate o troppo dolci. Io, insomma, c'è tutta una pressione da cui dovremmo cercare di difenderci. Ma è la società che ci deve difendere da questo punto di vista. E si fa troppo poco. Per cui la salute non è un tema solo sanitario, ma anche sociale. Certamente, infatti, la migliore salute è quella che si ottiene attraverso vie che chiamiamo socio-sanitarie. Cioè, la socialità è molto importante e deve essere sviluppata soprattutto a livello territoriale, dove ci sono molte cose da modificare in campo di medicina e di servizio sanitario nazionale. Ma i farmaci che consumano gli anziani non sono un po' troppi a volte? Questo tocca un tema per cui ci vorrebbe un seminario apposta, perché noi raccogliamo le prescrizioni e quindi vediamo che sono molto comune le condizioni in cui un anziano deve assumere 15 o 20 farmaci al giorno. Perché c'è anche in questo caso un consumismo. In fondo, i medici hanno soltanto la propaganda che deriva da chi vende. Avremmo bisogno di informazione indipendente. Allora, si saprebbe molto di più che non sappiamo nulla di cosa succede prendendo tanti farmaci insieme. Nessuno ha mai dimostrato che 20 farmaci sono meglio di 15 o che 15 sono meglio di 10 o che 10 sono meglio di 5. Quello che sappiamo o che non sappiamo è il numero di interazioni che avvengono fra tutte queste sostanze chimiche che buttiamo nell'organismo. Ecco, qui c'è un altro problema di cultura che va sviluppato. È un problema che dipende molto dall'avere informazione indipendente per i medici e dall'avere più collaborazione fra medici con specialità diverse perché si devono parlare fra di loro per trovare il modo di evitare l'eccessivo uso di farmaci. Grazie, professore. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.